Espo è un'avventura stranissima che per un manager se ti passa davanti non puoi che aderire e entusiasmarti. Entusiasmarti perché di fatto è qualcosa che richiede tutto quello che tu hai imparato e costruito nella tua vita professionale e quindi la capacità organizzativa, di mediazione, di decisione, di analisi, ma poi richiede anche molta fantasia e creatività e questa è una cosa non comune nei lavori manageriali. Anche perché è qualcosa che va creato, cioè se io fossi il capo o fossi stato il capo delle Olimpiadi, ecco lì era molto definito quello che c'era da fare, bisognava creare degli impianti, bisognava organizzare delle gare, bisognava invitare dei paesi. Qui invece cosa è Expo? È un libro da scrivere che parte ovviamente dalla scelta di un tema e noi abbiamo scelto per nostra fortuna un tema magnifico che è il tema dell'alimentazione, ma poi da lì in poi bisogna creare qualcosa che tra l'altro deve avere la caratteristica di attrarre l'interesse di 20 milioni di potenziali visitatori del XXI secolo. E quindi il grande sforzo è immaginare di dover replicare un format che nasce nel 1851 e del quale vanno rispettate le logiche, gli aspetti tradizionali, ma renderlo moderno, attuale e quindi immaginare appunto che possa essere interessante per la gente. Ecco questo lo rende magnifico e cioè rende veramente il fatto che io e chi lavora con me, alla fine, posto che i conti si faranno alla fine, quindi alla fine vedremo se abbiamo avuto ragione, ma potremmo dire in qualche modo che l'abbiamo veramente un po' inventato noi. Ed è per questo appunto che con tutto il mio regore manageriale, con tutto quello che ho imparato, con tutto quello che dal momento, dagli studi in Bocconi, insomma ho costruito e sedimentato, ma in questa fase della mia vita c'è stata questa piccola grande rivoluzione e insomma qualcosa che penso traccerà la mia vita professionale e umana in maniera assolutamente indelebile, che è stata per me anche una grande fortuna, una grande sfida, ma insomma ora siamo a poco dall'apertura, non ci sono più giorni, notti, sabati e domenica, si sta lavorando in maniera forse nata, con questo miraggio, ma miraggio con una buona ormai dose di realismo, di poter aprire bene il primo maggio 2015, di poter accontentare tutti quelli che vorranno poi venire a visitare i magnifici padiglioni, contenuti e immergersi in questo grande racconto e con la speranza che abbiamo noi di metterci un po' ai cancelli d'uscita e vedere la gente sorridente e felice di aver fatto un'esperienza, di essersi un po' arricchita umanamente. Grazie 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 Grazie